benvenuti da cristianarici l'interista sui oriamo 50 like lasciate un dislike per il nuovo video da cristianarici l'interista in questo nuovo video vi parlerò che vi lascio in descrizione vi lascio in descrizione di questo video un gruppo di whatsapp di un mio amico quindi andate tutti in descrizione di questo video che vi lascio in descrizione un gruppo di un mio amico di whatsapp e commentate qui sotto che io vi risponderò e per la prima volta vado a san siro domenica 11 febbraio a vedere inter bologna spero di portare fortuna l'inter e che vinca quindi sfioriamo 50 l'altri lasciato di dislike obiettivo 1.500 iscritti e speriamo che porta fortuna l'inter e spero di vedere spero di vedere non infortunati e di vedere una bella gara quindi una bella gara e spero che a san siro domenica 11 febbraio inter bologna non pioverà e ci e ci sia bel tempo e porterò fortuna l'inter quindi noi ci vedremo non ci rivedremo in un prossimo video e non dimenticatevi di andare in descrizione di questo video e di entrare nel gruppo di un mio amico su whatsapp e noi ci rivedremo in un prossimo video da Cristiano Arici dell'intervista